Ad un mese dalla nostra sollecitazione e richiesta come emittente televisiva di fare un'interrogazione sull'ospedale di Agropoli, arriva l'interrogazione appunto a firma di Attilio Pierro, consigliere della Lega in Regione Campania. La richiesta è stata subito accolta dal consigliere e oggi l'atto formale presentato in Regione è stato ufficializzato. L'appello ad interessarsi del futuro dell'ospedale agropolese è stato rivolto anche al Movimento 5 Stelle. Lo scorso 29 ottobre il Movimento ha sollecitato un intervento immediato della Regione Campania, infatti è stata depositata da parte del consigliere regionale Cammarano insieme alla collega Valeria Cerambino in Commissione Sanità una richiesta di audizione facendosi portavoce delle istanze e delle sollecitazioni dei sindaci dei comuni di Agropoli, Torchiara, Laureana, Lustra, Prignano Cilento, Giungano, Capaccio Pestum per difumo, Rutino, Cicerale, Ogliastro, Cilento. Nell'interrogazione di Pierro si legge che il futuro dell'ospedale di Agropoli resta incerto nonostante la nota dell'8 luglio 2020 con la quale l'Asla Salerno aveva preannunciato la riorganizzazione del presidio ospedaliero nel frattempo diventato Covid Hospital e la riapertura del pronto soccorso H24 garantendo un investimento di circa 2 milioni di euro. Per conoscere la tempistica per la messa a punto di tutte le attività previste dall'atto aziendale e per il rientro del pronto soccorso nella rete dell'emergenza al netto di eventuali inaspettate riprese della pandemia il consigliere regionale della Lega Tilio Pierro presenta appunto l'interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto chiarimento circa i tempi di ripresa di tutte le attività previste nell'ospedale di Agropoli. Presso la struttura di Agropoli al momento sono presenti anche 5 posti letto per pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza su UAP che avrebbero dovuto essere portati a 11 al termine dei lavori di adeguamento non completati. Da gennaio ad oggi scrive il consigliere della Lega gli accessi verso il presidio di Agropoli sono stati 8.000 a conferma che la riapertura dell'ospedale è stata una scelta giusta che ha dato una risposta alle esigenze assistenziali espresse dal territorio inserendole nella rinnovata rete ospedaliera provinciale ma senza un PS attivo H24 non è possibile garantire un servizio sufficiente essendo Agropoli attualmente escluso dalla rete delle emergenze atteso che risulta solo una postazione fissa di primo soccorso territoriale PSAUT priva a titolo d'esempio di cardiologo e radiologo per un numero di ore sufficienti all'accertata necessità e senza che sia stata attivata l'attività chirurgica. Chiedo dunque al presidente della giunta di rispondere quanto prima sul futuro e l'attuazione del piano previsto all'asla Salerno vista la rilevanza dell'ospedale di Agropoli per migliaia di cittadini. Si attende adesso la risposta del governatore Vincenzo De Luca.